E' presente anche lui in aula per ascoltare di persona il pronunciamento del giudice. Domenico Diele, l'attore imputato per aver investito e ucciso la 48enne salernitana e l'area di Lillo sull'autostrada A2 nei pressi dell'uscita di Monte Corvino Rovella, si trova in aula per conoscere il suo destino. Il PM ha chiesto, dopo l'istanza di rito abbreviato, la condanna a otto anni di carcere. Questa mattina davanti al tribunale di Salerno, dove la sentenza è attesa a minuti, erano presenti anche le amiche di l'area di Lillo. Una presenza, la loro, per chiedere giustizia nei confronti della vittima, anche se spiegano con amarezza, hanno ormai poca fiducia nello Stato. Noi vogliamo confidare fino all'ultimo momento che ci sia giustizia e che si mandi un messaggio che le persone consapevoli di mettersi alla guida in stato di psicofarmaci, di droghe e quant'altro e ammazzino in quel modo una persona vengano penalizzate in maniera giusta. Leggi giuste e non con attenuanti, scusanti, ma con tutte le aggravanti applicate al massimo della pena. Noi dagli otto anni che il PM ha presupposto, noi ci aspettiamo che almeno gli vengano date tutte, anche se lo speriamo poco, perché purtroppo ci sono, va fatta comunque una petizione per far applicare la norma come si deve in questo Stato, non ci credo più in questa legge, perché proprio, sono proprio loro che autorizzano le persone a comportarsi da delinquenti, delinquenti, perché poi di tanto la fanno franca.